Buongiorno amici e amici, bentornati a Suona la sveglia, inizia il make-up! Oggi possiamo scegliere tra queste due fascette skinker, sempre della linea di Harry Potter. Oggi indossiamo quella che rappresenta di più Harry Potter, perché ha Edvige, la civetta super carina amica di Harry Potter, e il pensiero carino di oggi è quanto era bello. Quanto era bello inizio io a guardare i cartoni animati da piccola, ma anche Harry Potter e tutta la saga dei film di Harry Potter. Mi è piaciuta tantissimo, mi è stata super simpatica la civetta Edvige, e devo dire che questa fascetta skinker è super azzeccata, ovviamente nei colori, mi piace che la scritta Harry Potter sia indorato, e devo dire che la civettina, la civetta Edvige è realizzata molto molto bene, è anche molto morbida, questa fascetta skinker è molto comoda, non mi pare a primo impatto che stringa, vediamo un po' durante il video se sarà super comoda. Mi piace, devo dire che è carina, molto molto bella esteticamente, anche l'altra con il fiocchetto nero, però secondo me l'altra è più adatta forse alla casa di serpeverde, ma anche alla casa di corvo nero. Invece questa la trovo più adatta sia per grifondoro che per tasso rosso, molto molto carine, e belle belle, le trovo giocose, le trovo anche, anche se una è nera, le trovo comunque allegre, perché riescono a rappresentare al meglio il make-up dedicato a Harry Potter e alle varie case di awards. Oggi, come avete già potuto vedere dal titolo, realizzeremo un make-up dedicato ad Hermione. Hermione Granger è una delle protagoniste dei film di Harry Potter, mi piace tantissimo, la trovo super carina, ma geni, pini, brufolini e le occhiaie da pandina. Oggi le contrastiamo con due prodotti di Pupa. Uno è comodo perché, diciamo, non è propriamente uno stick, perché ha la spugnetta sul davanti, è un po' a forma di penne, il Pupa Cover Cream Concealer numero 004, un po' marroncino, perfetto per le mie occhiaie, ma poi abbassa un po' il colore con il correttore coprenza assoluta di Pupa numero 001. Mi piace tantissimo, applico prima con questo pennello e poi sfumiamo col pennello di Ellison. Mi piace veramente tanto la combo di questi due correttori. Trovo che il risultato sia coprente, ma anche abbastanza naturale e sfumato. Come sempre, fissiamo i correttori con un pochino di cipria. Questa è la Banana Back in Powder, delicatamente profumata alla banana, e anche un po' il colore giallino, così che ricorda la banana. È di Revolution ed è molto, molto potente, perché fissa veramente la base, correttore, fondotinta, per tutto, tutto il giorno. Oggi come blush voglio realizzare un mix tra questo bellissimo rosa della palette Pink Romance di Astra e questi bellissimi illuminanti della palette Cinema Light di Bella Oggi. Praticamente ho fatto un mescolone, il rosa più due illuminanti, e il risultato devo dire che mi piace tantissimo. È super luminoso, come Lip Care. Oggi utilizziamo un labello alla ciliegia Cherry Shine, molto carino, super pigmentato e delicatamente profumato, in combo come sempre con l'amato Volume Boost di Bella Oggi. Ma strega comanda color personaggio! Oggi dedichiamo questo video ad Hermione Granger e utilizziamo la palette di Howard's Harry Potter di She Glam, bellissima. Utilizziamo ovviamente il quad di Griffon d'Oro. Guardate come è abbinato bene alla fascetta Skincare. Mi piace tantissimo, è anche molto carina nel pack, questa palettina, questo micro quad, che tanto micro non è, perché le cialdine sono belle grandi. Quindi, applichiamo come sempre il nostro amico scocce di carta, che ci aiuta a realizzare un make-up delineato, un pochino grafico, ma soprattutto definito, pulito, e spero anche abbastanza simmetrico. Hermione Granger è una delle protagoniste di questa saga, la saga di Harry Potter, e insieme ad Harry e a Ron Weasley, formano un trio veramente incredibile. Mi è piaciuto nel tempo ascoltare tutti i documentari dove raccontavano la scelta degli attori, ma soprattutto la costruzione del cast. E mi ha affascinato tanto, devo dire che mi piace, mi piace tutta la storia, mi piace tutto il dietro le quinte. Hermione Granger è veramente un personaggio carino, poi sa tutto, è veramente bravissima, è molto intelligente, ha delle capacità incredibili anche nell'ambito della magia. Infatti lei è quella probabilmente che riesce di più a fare le magie utilizzando le cose tecniche di questo incredibile trio. E infatti è molto spesso anche più brava dei maghi adulti. È proprio brava perché poi lei è nata da genitori babbani, cioè che non sono dei maghi, quindi lei è di una bravura incredibile, ma si applica anche tanto nello studio. Non è, diciamo, come gli altri maghi che sono nati da altri maghi a loro volta. Quindi era una studentessa brillante proprio perché si applicava tantissimo. Il mascara che stiamo utilizzando oggi è di Essence, mi piace tantissimo, è quello col pack nero e verde. Io sono curiosa di sapere se Ermione vi piaceva come personaggio, se vi piace, oppure se per voi era un pochino troppo saputella. Sulle labbra oggi applichiamo una combo di due prodotti. Oggi utilizziamo il color Magnifer di Bella Oggi, è un balsamo labbra rivelatore di colore, idratazione anche istantanea e ci dà un colore veramente super super carino. Questo è il numero 04 Nude Touch. Come lip liner ho utilizzato una matita di Max Factor, la numero 025 Brand Bold. Super carina che mi hanno regalato con gli acquisti al Tigotà. Guardate che bello questo effetto combo labbra. La parola segreta di oggi ovviamente è Ermione. E l'immoji segreta potrebbe essere un libro, visto che la nostra Ermione era bravissima e soprattutto studiava veramente tanto, tanto, tanto. Fatemi sapere cosa ne pensate di Ermione, cosa ne pensate di Harry Potter, ma soprattutto come state. Io vi mando come sempre un bacio grande, grande, grande. Ci vediamo nel video del pomeriggio e ci sentiamo nei commenti. Ciao amiche e amici, fatele brave e i bravi. Buona giornata, a dopo!